La scissione è sicuramente qualcosa che non fa bene alla sinistra, tra l'altro la storia della sinistra è piena di scissioni che non hanno quasi mai portato bene agli scissionisti. Io credo in questo momento i nostri elettori e il nostro popolo non voglia scissione, voglia unità. Noi stiamo provando a praticarla, veniamo da due giorni a Rimini in cui abbiamo discusso insieme con amministratori di tutte le anime del partito, di sindaci, di presidenti di regione. Mi dispiace che qualcuno invece di venire a discutere con noi abbia preferito andare in televisione ad attaccare, ad accusare, a dire bugie, a provare a dividere il partito.